Comunicidio di via Cavallotti Comunicidio di via Cavallotti Poi ci sono le forze dell'ordine che contribuiscono e concorrono al mantenere l'ordine pubblico ma chi ha la proprietà di un immobile, chi ha la proprietà di un bene deve anche curarsi del proprio bene. Quindi da questo punto di vista dobbiamo cercare alleanze, non sono necessarie e sufficienti le ordinanze perché poi un ricorso al TAR ce n'è materia per tutti. Noi continueremo sulla strada che abbiamo intrapreso e continuato negli anni che è quella di cercare di salvaguardare le nostre aree e le aree pubbliche nei limiti che oggi ci è consentito. L'invito che faccio è quello di fare tutti quanti la nostra parte come cittadini, quindi ragiono da cittadino. Cerchiamo di essere vigili per e di noi stessi delle nostre cose e sono sicuro che se tutti quanti ci comportassimo così ne guadagneremo tutti quanti. Ad oggi qual è la situazione di questo stabile di via Cavallotti che è stato teatro dell'omicidio dei giorni scorsi? Sì, lì è sotto sequestro e quindi in questo momento è presidiato alle forze dell'ordine. Mi sono sentito con il responsabile del commissariato, mi sono visto l'altro giorno, mi sono sentito anche ieri. Appena ci saranno le condizioni, se ci sono provvedimenti da assumere vanno assunti, con la proprietà in questi giorni ne parleremo perché va reso inaccessibile. Anche attraverso la muratura degli accessi? Io credo che noi dobbiamo pensare sia al decoro, sia a tutte queste cose, ma dobbiamo pensare anche alla salvaguardia della sicurezza e quindi quello che è sicurezza è dominante rispetto a tutto e poi cerchiamo di conciliare ovviamente.